Si è conclusa alle prime luci dell'alba l'operazione antidroga Aquila dei carabinieri di Arezzo che ha visto impegnati 120 militari con l'ausilio delle unità cinofile. 22 le misure cautelari eseguite questa mattina nei confronti di altrettante persone accusate di traffico illecito di sostanze stupefacenti, cocaina, hashish e marijuana. Era una struttura di tipo orizzontale quindi non possiamo parlare di un'organizzazione perché non c'erano dei ruoli ben definiti ma c'erano sicuramente degli spacciatori, c'erano sicuramente dei soggetti che erano in grado di rifornirsi di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. I manette sono finite 17 persone, per altre 5 è stata disposta invece la misura cautelare dell'obbligo o il divieto di dimora. Altri 10 erano stati arrestati nel corso delle indagini partite nel febbraio 2019. Quasi un anno di attività investigativa fatta di intercettazioni, pedinamenti e servizi di osservazione che hanno consentito ai militari di ricostruire la rete di soggetti principalmente albanesi e romeni ma anche italiani che avevano attivato piazze di spaccio nel cuore del centro storico aretino destinandolo allo smercio al dettaglio. Questo ci ha consentito di documentare plurimi episodi di gestione nell'ordine di qualche migliaio e un sviluppato e fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana. Gli episodi che abbiamo documentato riguardavano soprattutto il capoluogo e le immediate vicinanze del capoluogo ma si è estese in alcune circostanze anche nell'ambito della provincia. Il Maxi Blitz Antidroga ha toccato anche le province di Firenze, Perugia, Brescia, Vercelli e Trento. Scoperta anche una piantagione di cannabis all'interno di una villa in Spagna, principale canale di approvvigionamento della marijuana. Siamo riusciti a capire qual era il flusso della marijuana, quindi grazie alla collaborazione internazionale con le forze di polizia spagnola e grazie a un ordine di indagine europeo siamo riusciti a trovare l'abitazione presso cui c'era una piantagione di 700 piante, a trovare questo sistema che loro utilizzavano per trasportare la marijuana in Italia. Nel corso dell'attività di indagine sono stati sequestrati anche ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Complessivamente siamo nell'ordine di diversi chili delle varie tipologie di sostanze stupefacenti, in particolare per quanto riguarda la cocaina parliamo di sequestri nell'ordine di qualche centinaio di grammi per cui era sostanza stupefacente ancora da tagliare, quindi il cui valore va moltiplicato secondo quello che è il taglio, che è più o meno uno a quattro, uno a cinque. Tre infidele persone finite in manette questa mattina, sorprese in flagranza di reato nel corso delle esecuzioni delle ordinanze di misure cautelari e delle rispettive perquisizioni. Uno trovato con oltre 30 grammi di cocaina, un altro con 250 grammi di marijuana, il terzo con 100 grammi di marijuana. Grazie.